vi porgo un cordiale saluto e vi ringrazio per esservi connessi a questo corso appunto mattutino inconsueto appunto per btc ma abbiamo cominciato a fare anche questi questi corsi in questo orale per capire se in effetti può essere una cosa utile per tutti voi o per una parte di voi io mi chiamo lorenzo vilonna della formazione tecnica btc no e do appunto il benvenuto in questo webinar riguardante appunto la videocitofonia un piccolo inciso tecnico scusate e come scritto nella chat vi consigliamo di visualizzare il corso nella modalità schermo intero per appunto vedere meglio quindi premendo il tasto alt più il tasto invio contemporaneamente andate attivare la questo tipo di visualizzazione le domande le potete porre in qualsiasi momento in chat che io poi andrò a riprendere a fine presentazione quindi scrivetele quando vi vengo in mente così non le dimenticate cosa altra cosa tecnica troverete la risoluzione di questo corso fra qualche giorno andando nella sezione corsi on demand sul sito academy come già per chi frequenta i nostri corsi come già conosce la novità che appunto per chi ci conosce che abbiamo iniziato a intraprendere in questo mese è il numero di webinar nel senso che di norma abbiamo l'appuntamento del lunedì come vedete come avete visto nella newsletter che vi è arrivata abbiamo invece implementato una serie di corsi nel mese di marzo sarà così nel mese successivi che comprendono dei percorsi formativi fin anziché il webinar spot abbiamo pensato sperando di fare di cosa fare di fare cosa buona e giusta come si dice di fare dei percorsi formativi per quanto riguarda la videocitofonia cioè quello di stamattina come vedete nel mese di marzo sono previsti quattro argomenti e ogni argomento sarà replicato in due puntate alla sera e al mattino quindi il webinar di stamattina che è il primo step del percorso formativo di marzo è stato fatto due giorni fa alla sera ed è replicato attualmente adesso quindi in orario mattutino e qui vale per tutti gli altri webinar di marzo fate conto che poi riceverete a metà marzo la newsletter di aprile dove troverete altri percorsi formativi e anticipo già che anche nei mesi di aprile avremo il proseguo del percorso formativo di videocitofonia quindi in totale il percorso videocitofonia comprende otto puntate quattro nei mesi di marzo quindi oggi una di quelle e poi vedrete che ce ne saranno altre quattro nel mese di aprile sempre ogni puntata sarà raddoppiata per l'orario quindi capite bene che abbiamo messo in atto uno sforzo non indifferente ma questo ci consente di essere più vicino a voi questo arriva ovviamente dalle vostre richieste che raccogliamo puntualmente in ogni puntata e ci sono arrivate tante richieste per orari mattutini e quindi abbiamo avviato questa nuova procedura e che ci permette di avere anche comunque un piano formativo e quindi puntuale e strutturato bene detto detto questo altra nota tecnica poi inizio il corso vi chiedo gentilmente qualora qualcuno l'abbia aperta non lo vede sinceramente di spegnere le vostre telecamere in modo tale da ottimizzare il più possibile la banda per tutti quanti e quindi visto che ormai la rete in generale specialmente da oggi dove insomma ci sono tante scuole che sono in dald io mio figlio giù di sotto che sta facendo una dald e quindi per ottimizzare la banda consigliamo comunque al di là di questa situazione di chiudere i video bene quindi torniamo partiamo il nostro webinar quindi il primo appuntamento la prima puntata il primo incontro relativamente per questo formativo di una vicinofania riguarda le caratteristiche del sistema e configurazione attenzione che qui partiamo proprio dalla base del sistema quindi queste quattro puntate di marzo le quattro puntate di aprile che poi vedremo in dei dettagli ovviamente e comprendono l'iter di tutto il sistema videocitofonico ovviamente quindi oggi ve lo dico subito non parleremo dei nuovi posti interni connessi con cloud con l'app di questo ci sarà una puntata ad hoc dove parleremo delle novità di prodotto dei posti interni connessi delle app eccetera oggi come da titolo andiamo a andare a approfondire quello che sono le caratteristiche del sistema di videocitofonia due fili biticino e la configurazione attenzione che questi queste caratteristiche che andremo a vedere fra pochissimo riguardano il sistema videocitofonico in generale quindi questo serve per il cablaggio dalla cornetta da 20 euro fino al posto interno connesso che vi accendiamo prima che ne costa tre quattro volte di più ok quindi queste sono le basi del sistema poi i componenti che andremo a inserire avranno ognuno le sue caratteristiche innanzitutto il sistema dei fili videocitofonico e biticino prevede un'installazione molto semplice soprattutto per quanto riguarda il cablaggio perché parliamo di un cablaggio realizzato con un bus composto da due fili non polarizzati anche qua avremo una puntata dedicata al cablaggio quindi anche i cavi da utilizzare la prossima se non ricordare la prossima settimana mi anticipo comunque che si parla di un bus non schermato con due fili non polarizzati quindi non devo neanche preoccuparmi come vale a cablaggio non esiste più o meno e questo lo sottolineo è un sistema due fili puro nel senso che il bus con i due fili che lo compongono serve per andare a ovviamente gestire la comunicazione tra i vari oggetti del mio sistema ma anche per alimentarli quindi non esiste non è un due fili più alimentazione il nostro alimentatore che poi vedremo che il cuore del sistema da cui parte il bus gestisce sia l'alimentazione di ogni singolo sistema di ogni singolo oggetto e contestualmente anche la comunicazione questo è importante perché sul mercato si trovano diversi sistemi due fili però poi deve alimentare a parte i vari oggetti anche qua poi vedremo in alcune situazioni dovremmo alimentare se nel caso alcuni oggetti perché magari perché vogliamo l'accensione l'auto accensione contemporanea di 5 monitor video e questo è un discorso ma per il funzionamento standard del sistema non devo prevedere nessun tipo di alimentatore al di fuori di quello principale ecco il discorso che approfondiremo nella settimana prossima comunque vi volevo precisare che il nostro pass bianco è quello che ci consente di ottenere le massime prestazioni del sistema quindi vuol dire massime distanze ovviamente e massimo numero di oggetti che posso inserire nulla vieta utilizzare altri tipi di cavi che vedremo nelle tabelle settimana prossima però resta il fatto che il cavo bianco cioè il nostro cavo che vi ticino a catalogo è quello che ci permette di realizzare impianti con le massime prestazioni con il nostro cavo bianco e con l'utilizzo di eventuali interfacce di espansione eccetera eccetera possiamo realizzare impianti di questo tipo quelli che vedete nella slide quindi parliamo di 3.900 appartamenti parliamo dei cicli posti interni video per ogni appartamento parliamo di 39 montanti indipendenti parliamo di 96 posti interni video comuni quindi un impianto con numeri di tutto rispetto realizzato con il semplice bus bianco e quindi questo ci permette di affermare che questo tipo di sistema può essere intrigato dalla piccola villetta con un semplice impianto fino ad arrivare ai complessi condominiali dove magari sono previste tante montanti, tante palazzine all'interno, magari diversi posti esterni comuni, diversi posti esterni a pie scala, quindi un impianto ovviamente molto più complesso che comunque può essere gestito semplicemente con il cablaggio bus. sui tipi bus, qui vediamo proprio l'abc che probabilmente voi insegnate a me, ci mancherebbe dell'impianto base audio, ecco in questa slide sottolineo parliamo dell'audio, ecco nell'audio c'è ben poco da dire nel senso che abbiamo l'alimentatore che è rappresentato nella slide ma poi vedremo diverse tipologie ma il concetto è lo stesso, da qui parte il bus che andrà gestire i posti esterni audio e la montante con i posti interni audio, quindi nell'audio cioè in questo specifico esempio sappiate che praticamente non esistono regole di cablaggio cioè vuol dire che il bus bianco lo derivo in qualsiasi punto, quindi dove meglio mi serve, dove meglio credo senza l'utilizzo di altri oggetti, quindi proprio lo derivo brutalmente facendo dei paralleli con i morsetti, con le morsettiere, come meglio credete, quindi non mi servono altri oggetti tipo il derivatore di piano che vedremo nell'impianto video, quindi nell'impianto audio ho molta piena, ho più libertà di gestire le connessioni appunto del bus, cosa diversa invece per quanto riguarda il video, abbiamo sempre l'alimentatore, anche qua poi vedremo in maniera più specifica le diversità di alimentatore che abbiamo a catalogo e dopo l'alimentatore vediamo nella slide la presenza di un oggetto che prima non c'era nell'audio, qui invece c'è, che si chiama adattatore video, l'adattatore video è una sorta, in poche parole, di miscelatore audio video, visto che qui adesso parliamo di un sistema video citofonico, quindi questo elemento ci miscela la parte agio con la parte video, quindi vedete dal alimentatore andiamo a alimentare sostanzialmente il nostro adattatore video dal quale partirà il bus relativo ai posti esterni, quindi agli ingressi dell'impianto e partirà il bus che va praticamente a gestire i posti interni o direttamente o sul montante. Attenzione che il nostro adattatore video ha un limite che è il seguente, cioè su di esso possiamo effettuare al massimo tre connessioni, ovvero o due posti esterni e una montante, vuol dire tre, oppure un posto esterno e due montanti che fa sempre tre. Quindi vuol dire che con questo oggetto possiamo realizzare impianti con al massimo o due posti esterni o al massimo due montanti. Attenzione che quando dico montante o montanti, quindi al massimo due, non dico il numero massimo di posti interni, dico il numero massimo di montanti, nel senso che io potrei realizzare un impianto con un'unica montante alla quale connetto 50-60 posti interni, un esempio. Un mega palazzo con 30 posti interni li faccio con un'unica montante. Quindi l'adattatore video non mi limita sul numero di posti interni, ma mi limita sul numero di montanti. Poi i posti interni che posso andare a cablare su questa o su quelle montanti, ripeto al massimo due, questo limite non è dato dall'adattatore video, ma è dato da altri limiti, cioè il primo su tutti, l'assorbimento che tutti i nostri elementi, in questo caso gli posti interni dell'impianto, l'assorbimento, la somma degli assorbimenti che gravano sull'unico alimentatore che sta al pie scala, quindi l'alimentatore di comune, in questo caso se pare uno in condominio. Ok? Però, ripeto, l'adattatore video non limita il numero di posti interni, ma limita il numero di montanti. Quindi con questo oggetto al massimo due montanti, al massimo due posti esterni. Se avessi bisogno di ampliare il numero di montanti o il numero di posti esterni, allora vado a utilizzare il nodo audio video, che è questo che vedete nella slide. Quindi avrò sempre il mio alimentatore, ripeto, poi vediamo i codici diversi, ma il concetto non cambia. Questo alimentatore, anziché andare a gestire l'adattatore video, gestirà un nuovo, un altro oggetto che si chiama nodo audio video. Il nodo audio video ha quattro ingressi sotto che gestiscono i posti esterni o le telecamere, i due figli, vedremo anche questo in un'altra puntata, mentre nella parte superiore troviamo quattro uscite che rappresentano quattro montanti. Quindi con il nodo audio video posso gestire impianti con quattro posti esterni e quattro montanti, quindi molto di più rispetto all'adattatore video. Poi il concetto non cambia, questo oggetto mi fa avere più montanti e più posti esterni eventuali. Tornando alla slide precedente, abbiamo visto che all'alimentatore è stato associato l'adattatore video di cui vi ho già parlato. Ecco, questa situazione era molto comune fino a qualche tempo fa, nel senso che l'alimentatore che vediamo in slide è quello che fino all'anno scorso, un anno e mezzo fa, era il più performante, cioè vuol dire gli otto moduli DIN con 1200 mAh di corrente massima, al cui eventualmente associerò l'adattatore video come slide oppure eventualmente il nodo audio video. Ecco, fate conto che da un annetto a questa parte, questo alimentatore è stato sostituito con uno nuovo quindi anziché prevedere alimentatore e adattatore video separati, quindi due oggetti che mi occupano 8 più 2 moduli, vuol dire 10 moduli DIN oggi, apposto di questi due elementi, è stato inserito al catalogo un nuovo alimentatore che si chiama 346050 che occupa 6 moduli DIN stessa corrente dominale massima, cioè 1200 mAh ma la grossa comodità è che questo alimentatore a proprio interno è già dotato di adattatore video quindi con 6 moduli DIN contro i 10 di prima 10 qua, qui solo 6 ho lo stesso risultato, ovviamente con meno spazio e soprattutto con un unico elemento quindi il mio alimentatore sarà alimentato con la tensione di rete al 230 e poi avrà un'uscita dedicata ai posti esterni e un'uscita dedicata alla montante con le stesse regole del adattatore video che vi ho spiegato prima, cioè le famose massime 3 connessioni quindi massimo due posti esterni e una montante oppure massimo un posto esterno e due montanti quindi questo sicuramente è agevolato sia in termini di cablaggio nel vostro lavoro ma anche in termini di costi e di spazi se vorresti usare il nodo audio video prevedo lo stesso alimentatore che è questo e a fianco ci metto il nodo audio video quindi anziché utilizzare le uscite direttamente a bordo dell'alimentatore dedicata ai posti esterni e alla montante io vado a prelevare l'uscita pura che è indicata come SCS che andrà a alimentare il nodo audio video il quale poi gestirà le 4 posti esterni e le 4 montanti esiste anche un altro alimentatore, due moduli DIN di 34-60-30 con 600 mA di corrente massima, quindi la metà rispetto a quello di prima con comunque adattatore video integrato anche questo quindi molto comodo due moduli DIN soltanto ovviamente questo lo prevedono impianti piccolini non ci fate il condominio con questo ci fate la billetta, ci fate la bio familiare per carità però questo in due moduli DIN vi permette di realizzare un impianto molto semplice con adattatore video integrato ecco fate conto che nei kit monofamiliari ad esempio non trovate questo alimentatore ma trovate quello più grande questo perché? perché sicuramente nel monofamiliare serve più che sufficiente questo se è ben chiaro però siccome tutti i kit compreso il monofamiliare sono tutti kit espandibili non sappiamo cosa il cliente prevederà una volta assalato il kit quindi in previsione di un'eventuale espansione dell'impianto con i posti esterni e con dei posti interni aggiuntivi è stato inserito l'alimentatore da 1200 mA veniamo alla configurazione tutti gli elementi del nostro impianto di videocitofonia tutti tranne l'alimentatore e altri oggetti come adattatore video nodo di video e derivatore di piano che vedremo in altre puntate comunque al di là di questi elementi tutti gli altri devono essere configurati se no l'impianto non funziona soltanto in caso in cui avessi acquistato un kit monofamiliare accendiamo poco anzi solo in questo caso voi affissate il kit lo installate alimentate l'impianto questo senza mettere nessuna tipologia di configurazione funziona solo in questo caso ovviamente già se nel kit monofamiliare che funziona senza configurarlo doveste aggiungere appunto come accennavo prima un posto esterno o un posto interno aggiuntivo allora in quel caso devo comunque configurare l'impianto quindi dicevo tutti gli elementi devono essere configurati e tutti gli elementi dell'impianto sono configurabili nella configurazione cosiddetta fisica cioè fisicamente ovviamente vado ad inserire nelle apposite sedi che sono presenti su tutti gli elementi da configurare i nostri configuratori che sono delle resistenze dalla 0 al 9 numerate e quindi vado ad inserire con la pinzettina corredo fisicamente da qui non fisicamente i nostri elementi che sono i configuratori qui tutto è configurabile fisicamente sappiate che alcuni elementi di impianto come dei posti esterni scusate avanzati ad esempio lo sfera new o lo sfera robur questi posti esterni sono configurabili come tutti gli altri fisicamente ma eventualmente posso scegliere quindi una scelta di configurarli nella cosiddetta configurazione avanzata ovvero tramite un pc con un software che gira a bordo quindi dovrà avere un pc su quale installerò un software che si chiama T-Sfera Design che se poi abbiamo tempo ve lo apro in diretta dopodiché io opererò sul software non toccherò neanche un tasto del mio posto esterno in questo caso fatta la configurazione sul pc collegherò il pc con un cavo usb al mio posto esterno e invierò la configurazione e quindi vado a fare questa configurazione avanzata poi vedremo perché dovrei scegliere una configurazione avanzata rispetto ad una fisica quando vediamo quella fisica vediamo le differenze comunque sappiate che esiste anche questa possibilità altra premessa adesso noi vediamo i principi fondamentali della configurazione fisica di come devo configurare posti esterni e posti interni di un impianto sappiate se già non lo sapeste sapeste che esiste un software di preventivazione barra configurazione molto comodo e semplice che si chiama Udiagram anche qua ci sarà una puntata dedicata in webinar soltanto a questo software però vi accendo due principi fondamentali cioè questo software è quello che ci permette di configurare ma soprattutto preventivare e avere uno schema elettrico un impianto di questo tipo quindi in automatico una volta che io realizzo lo schema molto semplicemente il software mi dice come configurare le P e le N dei pari posti esterni e posti interni ci pensa lui ovvio che come dico sempre è fondamentale comunque capire com'è il principio di configurazione che vediamo adesso poi se ho un software che mi aiuti in questo senso tanto meglio specialmente se magari ho un impianto grande o tanti impianti da fare in poco tempo però se mi trovo in cantiere devo andare a cambiare una configurazione perché vedo che non va bene io solamente il principio di configurazione lo faccio veramente in pochi secondi senza dover prendere il pc innanzitutto vi ricordo che i posti esterni sono segnalati con la lettera P e di norma parte dal 0 dal numero 0 mentre i posti interni sono indicati con la lettera N e parte dalla lettera del numero 1 la sede vuota di un qualsiasi elemento equivale al numero 0 quindi il configuratore numero 0 quello verde esiste però praticamente non si utilizza mai perché la sede la certa volta corrisponde appunto al 0 allora adesso vediamo questa slide che potrebbe sembrare complessa ma non è così adesso ve la spiego con calma che ci permette di andare a capire bene come si va a configurare un impianto qui abbiamo due posti esterni e due montanti scusate due posti interni come se avessimo due scale scala 1 e scala 2 allora cominciamo con configurare il primo posto esterno che mi trovo questo qui il primo in basso a sinistra sotto al posto esterno ho indicato le sedi dei configuratori che trovate sulla parte posteriore del posto esterno in questione poi le vediamo tutte le lettere quindi abbiamo detto poc'anzi che i posti esterni sono indicati dalla lettera P e di norma parte dallo 0 quindi essendo questo il mio primo posto esterno presente nell'impianto scelgo logicamente di chiamarlo P0 la sede P del posto esterno è composta a sua volta da due sedi decine e unità quindi se scelgo di chiamare questo posto esterno P0 vuol dire 0 decine 0 unità ovvero lo lascio vuoto quindi così come lo vedete questo si chiama P0 il posto esterno successivo lo chiamo P1 vale in ordine crescente quindi dovrò inserire il numero 1 nella sede delle unità della P attenzione che se per sbaglio questo 1 lo mettessi qui cioè nella sede delle decine diventerebbe configurato come numero 10 una decina in O1 e quindi non funzionerebbe come dovrebbe quindi consiglio che do spesse volte si lavora in situazioni magari di poca luce molto scomodo le sedi sono molto ravvicinate quando non funziona un impianto da primo avvio prima di creare allarmismi o buttarsi su altre situazioni è meglio controllare banalmente la giusta collocazione della sede spesse volte l'errore parte proprio da lì quindi P0 primo posto esterno P1 il secondo posto esterno poi se ne avessi altri P2 P3 eccetera eccetera andiamo sui posti interni se il posto interno che vi sto indicando rappresenta l'appartamento 1 è un esempio potrebbe essere l'appartamento 54 allora in questo caso il posto interno vuol dire sede N vuol dire che se l'appartamento 1 dovrà inserire nella sede N anche qua abbiamo decine unità quindi attenzione il numero 1 se invece l'altro posto interno rappresenta come esempio l'appartamento 25 dovrò inserire semplicemente il 25 nella sede N quindi ho battezzato posto esterno P0 posto esterno P1 primo posto interno N1 secondo posto interno N25 quindi sono delle mie configurazioni quindi delle mie scelte prendiamo sui posti esterni dove abbiamo gestito finora la sede P e troviamo comunque anche una sede N anche qui con decine unità la sede N abbiamo appena visto indica i posti interni quindi cosa ci fa una N sui posti esterni serve a stabilire qual è la partenza di chiamata mi spiego meglio i posti esterni che avrà il posto esterno che avrà diversi postanti di chiamata dall'1 a 100 per dire perché ricordo che noi massimo possiamo gestire fino a pulsantiere con 100 pulsanti fisici ovviamente poi da capire se è meglio avere 100 pulsanti oppure magari ripiegare una soluzione di tastierino digitale con rubrica digitale però a dirgli questo quindi i vari pulsanti del mio posto esterno andranno a chiamare i singoli appartamenti io dovrò semplicemente indicare qual è il primo posto interno che vorrà chiamare la partenza di chiamata ricordatevi sempre è sempre il primo pulsante in basso ok quindi io con la lettera N che vado a inserire nel posto nella sede del posto esterno dico al posto esterno qual è il posto interno che dovrà chiamare quando premerò il pulsante di partenza che dicevo è quello sempre in basso quindi se ad esempio in questo posto esterno ho inserito N1 vuol dire che quando premerò il primo pulsante in basso di questa pulsantiera chiamerò l'appartamento 1 dopodiché il sistema comodamente e furbamente assegna a tutti gli altri tasti della pulsantiera un ordine automatico che è un ordine crescente quindi se dico che il primo pulsante è l'N1 quindi è una mia scelta in automatico il sistema assegnerà al secondo pulsante l'N2 al terzo pulsante l'N3 al quarto pulsante l'N4 eccetera eccetera quindi è sufficiente che io indichi la partenza poi il sistema ripeto comodamente assegna un ordine automatico crescente e in ordine cioè in ordine vuol dire 1,2,3,4,5,6 eccetera non 1,3,2,7,27,54 nel senso che così come vi ho appena spiegato il sistema assegna un ordine crescente e contiguo con indirizzi contigui che non posso cambiare diciamo che questo è un ordine che va bene nella stragrande maggior parte dei casi dal basso verso l'alto un ordine crescente però sappiate che questo ordine non posso cambiare non posso dire il tasto 1 N1 tasto 2 N3 tasto 4 N27 no dall'1 all'X se invece questo posto esterno lo configurassi anziché fisicamente come stiamo facendo adesso ma con un PC allora con il PC poi lo vediamo posso molto semplicemente associare a qualsiasi tasto un qualsiasi numero di posto interno quindi il 27 è il primo il secondo 52 il terzo 1 il quarto non chiama niente il quinto luci scale posso assegnare ovviamente funzioni anche al di là di quelle che sono le semplici chiamate solo configurandolo con il PC però poi col PC lo vediamo ripeto nella stragrande in maggior parte dei casi l'ordine crescente è quello comodo e quello più utilizzato quello che serve nei miei impianti quindi tornando a noi nel primo posto esterno avendo inserito l'N1 vuol dire che questo posto esterno chiamerà dall'1 a X ovviamente chiamerà tutti i posti interni fin quando trova pulsanti sulla pulsantiera quindi se questa pulsantiera sarà prevista di 24 pulsanti chiamerà dall'1 al 24 che è la scala 1 nel secondo posto esterno ho inserito a titolo esemplificativo l'N25 vuol dire che solo da questo posto esterno chiamerò dal 25 in su ok quindi nell'esempio di due scale se questo primo posto esterno chiama dall'1 a tutti ma poi è limitato da 24 tasti questo posto esterno chiamerà i primi 24 appartamenti della prima scala mentre il secondo posto esterno chiamerà soltanto i posti interni della seconda scala che vanno nel appartamento 25 quindi da questo esempio vuol dire che dal secondo posto esterno non potrò chiamare nessun appartamento che sa nell'altra scala perché partono dall'1 fino al 24 attenzione che ho detto che la partenza di qualsiasi posto esterno la partenza di chiamata avviene quindi il primo pulsante di chiamata avviene sempre da quello in basso verso l'alto ma se qualcuno ha notato in questa slide abbiamo dei posti esterni con pulsante doppio vuol dire che su ogni pulsante ho due pulsanti quindi per ottimizzare gli spazi quindi ogni pulsante mi chiama due appartamenti con due pulsanti distinte ovviamente quindi la doppia fila cosiddetta è gestita in questo modo la partenza è sempre il pulsante in basso a destra dopo di che l'ordine sarà come vedete 1 è la partenza in basso a destra 2 3 4 5 6 quindi destra sinistra destra sinistra destra una z al contrario quindi con pulsanti a singola fila da basso verso l'alto con pulsanti a doppia fila come in questo esempio sempre da basso verso l'alto ma alternando destra a sinistra ripeto questa è una regola è un ordine che fisicamente non posso cambiare lo posso fare poi lo vedremo con l'eventuale configurazione da pc su questo posto esterno quindi l'impianto è già completamente funzionante ovvio che se sul secondo posto esterno avessi messo anche qua il ne1 vuol dire che tutti i due posti esterni avrebbero chiamato indistintamente tutti i posti interni delle due scale spesso e volte è così però era un esempio per sottolineare la possibilità di personalizzare anche questa cosa sul mio impianto e a proposito di personalizzazione facciamo un passo avanti torniamo sui posti interni dove vediamo la presenza di una sede P che adesso è vuota allora questa sede P la P ovviamente sta per posto esterno però questa sede è presente su posti interni anche cosa serve? serve a stabilire il cosiddetto posto esterno principale o di default che sia mi spiego meglio innanzitutto parliamo di autoaccensione quindi il sistema è a riposo non c'è nessuna chiamata in corso nessuna chiamata o nessun altro e premendo il tasto autoaccensione che è presente su ogni posto interno di solito indicato con l'occhiolino o con il cerchietto dipende dal posto interno quando premo quel pulsante ripeto senza che nessuna chiamata sia stata avviata dall'esterno vuol dire che autoaccendo il o i posti esterni presenti nell'impianto quindi voglio visualizzare di mia iniziativa quello che succede davanti al posto esterno la famosa appunto autoaccensione allora che cosa accendo quando premo quel pulsante sul posto interno accendo per primo il posto esterno che io vado ad indicare nella sede P di cui stiamo parlando presente sul posto interno allora se ho il singolo posto esterno non faccio nulla e ovviamente accendo quello quindi la sede qui dalla sua vuota ma se avessi più posti esterni come in questo esempio due ma potrebbero essere molti di più se parliamo di un complesso condominiale di un condomino con tanti ingressi allora posso addirittura scegliere quale posto esterno mi accendi per primo quindi nell'esempio in questione nell'appartamento 1 è stato lasciato vuota la P quindi vuol dire P0 sostanzialmente vuol dire che per questo posto interno quindi solo per l'appartamento 1 il posto principale esterno risulta essere il P0 che è questo il primo quindi vuol dire che nell'appartamento 1 quando premerò il pulsante di autoaccensione accenderò il posto esterno P0 che è questo non questo questo dopodiché se premo un'altra volta il pulsante di autoaccensione nel posto interno dopo lo 0 lui si aspetta un 1 che c'è in questo impianto e quindi accende l'1 se lo premo un'altra volta dopo l'1 si aspetterebbe un 2 che in questo caso non c'è allora torna sullo 0 quindi la ciclata la cosiddetta perché ciclicamente premendo il pulsante di autoaccensione accendo i vari posti esterni presenti nell'impianto parte da dove decido io quindi dal posto esterno con l'indirizzo che va ad indicare nel P del posto interno e faccio la ciclata su tutti i posti esterni che trovo nell'impianto qua non trovo più niente ritorna sul posto esterno principale che ho stabilito in questo caso lo 0 nell'appartamento 25 ho inserito anche qua titolo di esempio P1 vuol dire che da questo specifico posto interno quindi solo dalla 25 quando premerò il pulsante di autoaccensione accenderò il posto esterno con l'indirizzo P1 che è il secondo o più il primo quindi premo la prima volta l'autoaccensione l'apposto interno 25 e accendo il P1 premo la seconda volta quindi avvio la ciclata famosa dopo l'1 si aspettano 2 che non c'è quindi cosa fa? il mio posto interno torna e quindi rimane sul P1 non tornerà sul P0 perché il suo posto interno principale è l'1 lui parte dall'1 e torna all'1 quindi se avessi un posto esterno P2 che non c'è ma se lo avessi io dall'appartamento 25 vedrei P1 P2 P1 P2 P1 P2 P2 dall'appartamento 1 vedrei P0 P1 P2 P0 P1 P2 quindi da questo esempio vuol dire che dal posto interno 25 in autoaccensione quindi in mia iniziativa non potrò mai vedere il posto esterno P0 sono scelte di norma questo discorso non si affronta mai si lascia su tutti i posti interni del mio appartamento la P vuota quindi il P0 vuol dire che tutti gli appartamenti del mio condominio vedono tutti i posti esterni partendo dallo 0 fino a quello che trova però sappiate che se avesse esigenze particolari dove magari l'appartamento 3 non dovrebbe vedere la telecamera del posto esterno 1 la telecamera aggiuntiva che ho messo al box dell'appartamento 2 allora sappiate che potete andare a fare queste configurazioni per ottenere quello che richieste ripeto di norma questo discorso o non si conosce addirittura oppure non ci si pensa nemmeno quindi si lascia tutte le P2 posti interni vuote però sappiate che avete anche questa possibilità quindi avete visto che sia sui posti esterni che sui posti interni abbiamo la possibilità di rendere come si dice molto semplice in maniera molto semplice la personalizzazione anche di questi parametri ecco la cosa importante che voglio sottolineare che il discorso che ho appena fatto vale per l'autoaccensione quindi quando io impianto in stand by vado a premere sui posti interni il pulsante autoaccensione ovvio che se io sono chiamato da qualsiasi posto esterno al di là della sede P che ho inserito nel posto interno automaticamente il posto interno si collega al posto esterno di chiamata quindi la chiamata del posto esterno ha priorità su tutto rispetto anche a queste configurazioni quindi anche la serratura il pulsante serratura che è presente su tutti i posti interni segue sempre la fonica e il video quindi in questo esempio se sono chiamato dal posto esterno P0 il posto esterno P0 chiama l'appartamento 1 e il posto esterno P0 ha annesso annesso la sua serratura quindi quando sono in comunicazione tra posto esterno P0 e appartamento 1 quando il posto interno 1 premerò la serratura tederò la serratura al posto esterno 0 se invece sono chiamato il posto esterno P1 chiama l'appartamento 1 in questo caso non è possibile la configurazione ma mettiamo che fosse possibile vuol dire che la comunicazione instaurata tra appartamento 1 e posto esterno P1 è impegnato questa fonica e audio quindi quando premerò la serratura dall'appartamento 1 attiverò la serratura annessa al posto esterno P1 quindi ripeto la regola molto semplice la serratura segue sempre l'audio e il video con il quale sto conversando ok spero di essere interessato abbastanza chiaro sul principio fondamentale della configurazione poi se ho software che me lo fa in automatico come dico io tanto meglio vediamo qualche esempio allora qui abbiamo tra l'altro un esempio proprio fotografato dalla guida tecnica che potete tranquillamente scaricare gratuitamente da tutti i siti BTC come lo digitate anche su google molto semplicemente guida tecnica a due fili BTC e tra l'altro è stata aggiornata ultimamente trovate il pdf o sfogliabile o scaricabile ecco fra gli esempi trovate questo che vi sto facendo vedere uno dei primi qui abbiamo un semplice impianto monofamiliare con un posto esterno video 5 posti interni video in parallelo intercomunicanti questa è la specifica chiesta dal cliente vediamo come lo realizzo abbiamo l'alimentatore che utilizzerà il proprio adattatore video integrato perché abbiamo praticamente un ingresso c'è un posto esterno e un'uscita quindi è più che sufficiente l'adattatore video integrato quindi avremo l'uscita dedicata a quello che è il posto esterno e l'uscita dedicata a quella che è la montante che poi andrà a collegare in entraesci in parallelo i nostri 5 posti interni di appartamento vi ricordo che parliamo di 5 posti interni video dello stesso appartamento non siamo nel condominio ma nel monofamiliare poi nella prossima puntata vedremo le modalità di cablaggio in entraesci stellare eccetera e abbiamo in entraesci che ovviamente è un appartamento quello più più comodo e più utilizzato quindi cablaggio questo banale che vedete la configurazione allora il posto esterno lo chiamo P0 quindi la P la lascio vuota e ovviamente i posti interni lo chiamate come vedete N12345 quindi se io inserissi nel posto esterno la N1 vuol dire che il primo e unico pulsante perché è un monofamiliare che è presente sul posto esterno chiamerebbe l'N1 cioè solo questo gli altri no e non va bene cioè se fossi in un appartamento in un condominio avrei 5 pulsanti sul posto esterno la partenza gli do io l'1 e poi gli altri chiamano gli altri posti interni ma in questo caso non è così è un monofamiliare un pulsante solo ma questo pulsante deve chiamare tutti i posti interni non solo l'N1 quindi potrei tranquillamente visto che siamo in un monofamiliare chiamare tutti i posti interni N1 lo posso fare quindi il pulsante di chiamata chiama l'N1 cioè tutti i 5 posti interni lo posso fare il sistema funziona in maniera corretta però non è stato fatto perché la richiesta è quella di avere l'intercom fra i 5 posti interni dell'appartamento e quindi per avere un intercom devo per forza di cosa avere 5 posti interni o quanti siano con nomi diversi se no come faccio ad direzzare la chiamata l'intercom e quindi torniamo al problema che ci viene risolto utilizzando la sede S del posto esterno e mettendici un bel numero 9 cioè il famoso S9 cosiddetto nel posto esterno è quello che mi realizza la chiamata generale su tutti i posti interni presenti nell'impianto vuol dire che al di là di come siano chiamati i posti interni che trova quando ho l'S9 nel posto esterno premendo il pulsante di chiamata chiamerà contemporaneamente tutti i posti interni poi la regola è la seguente la vedremo ripeto quando vedremo i posti interni per anticipo quando arriva una chiamata su questo tipo di impianto 5 posti interni tutti e 5 suonano contemporaneamente escederà il monitor del principale quello che di Roma è chiamato l'N1 quindi si accende il monitor di questo e tutti i 5 suonano contemporaneamente ovvio che se rispondessi dal N5 si spegne il monitor dell'1 che era acceso e si accende il monitor del 5 da cui rispondo quindi vuol dire che al massimo avrò sempre solo un monitor acceso alla volta questo perché per limitare il consumo specialmente se parliamo di un condominio vuol dire che se avessi 25 appartamenti in un condominio ok e ogni appartamento avesse 3 posti interni e su ogni chiamata si dovesse accendere tutti e 3 ogni volta vuol dire che tutti questi monitor accesi che consumano molto di più rispetto al monitor che sta suonando graverebbero sull'unico alimentatore che c'è più a scala l'alimentatore diciamo comune condominiale e non ce la faremmo quindi la regola è questa è normale se ne accende solo uno tutti gli altri suoni ma poi ovviamente si accende quello che risponde se volessi la famosa accensione contemporanea quindi vorrei se io volessi che qui dentro tutti e 5 si accendano contemporaneamente essendo un monofamiliare semplicemente dovrò vedere l'assorbimento quindi io fuori istruzione di ogni elemento vedo quanto consuma acceso questo alimentatore fornisce al massimo 1200 mila per e quindi se è sicuramente così se tutti e 5 accesi superano questa corrente dovrò prevedere allora in questo caso un alimentatore supplementare per i monitor che sono fuori da questa che non ce la fanno essere gestiti dall'alimentatore principale ok quindi tranquillamente potrò utilizzare il 64-60-20 cioè i due moduli senza datore video che è appunto quello adatto per questo tipo di cose dunque poi questo tema lo vedremo più approfonditamente nella prossima puntata ma sicuramente automaticamente ce lo risolve il software ecco ripeto il discorso S9 l'S9 inserito nel posto esterno quando premo il pulsante in questo caso l'unico perché è un mono familiare di chiamata lui convolge nella chiamata tutti i posti interni presenti nell'impianto indipendentemente da come si chiamano da come sono configurati li chiama tutti poi tutti e 5 di suona e soltanto uno si accende ma nella chiamata sono convolti tutti ovviamente attenzione l'S9 mettetelo nel monofamiliare non nel condominiale perché se voi metteste l'S9 nell'impianto condominiale vuol dire che qualsiasi pulsante io premo la pulsantiera fa suonare tutti insieme gli appartamenti di tutto il condominio e ciò non è cosa bella quindi l'S9 ci aiuta nel monofamiliare quindi consiglio che do quando avete l'impianto monofamiliare inserite il numero 9 nella sedesse del posto esterno così voi siete sicuri al di là di come poi configurerete i posti interni o tutti uguali o diversi eccetera siete sicuri che tutti e 5 in questo caso quelli che potrebbero essere sono convolti nella chiamata ecco io ho soltanto scritto Udiagram per ribadirvi l'ho già detto prima che tutto il discorso che ho appena fatto di configurazione Udiagram ce lo risolve automaticamente quindi Udiagram ripeto ci sarà un corso che verrete dedicato solo a Udiagram quindi verremo proprio software dal vivo come si comporta Udiagram è un software di preventivazione progettazione configurazione cioè cosa fa innanzitutto vi realizza lo schema elettrico man mano che inserite gli elementi lui vi dice come configurarli quindi S9 nel posto esterno N1 nel primo posto interno come configura l'intercom e soprattutto mi realizza l'elenco materiale con il costo quindi un software di preventivazione e il software che utilizzano i nostri funzionali tecnico-commerciali per fare preventivi sui clienti o tanti grossisti utilizzano questo software per fare dei preventivi ai clienti grossisti quindi è poco magari conosciuto ma il consiglio che vi do e magari oggi non è non abbiamo trattato però già il nome potete eventualmente dare un'occhiata su internet vi consiglio sicuramente di seguire il webinar che sarà previsto a breve solo sul software ecco un'altra cosa a livello di software che volevo farvi vedere prima di passare alle domande è il software di programmazione di configurazione per i posti esterno Sfera News per la Robur che si chiama Tisfera Design che ho appena aperto quindi vi ricordo il posto esterno che abbiamo preso ad esempio poco fa è configurabile ovviamente con i configuratori fisici e fin quando ci siamo ma eventualmente potreste realizzare una configurazione da pc quindi non toccate il posto esterno nel senso che i configuratori non li vedete ad inserire tra l'altro cosa utile è che i posti esterni in questione hanno la presa mini USB che andrà ad essere utilizzata per questo software sulla parte frontale quindi una volta che ho installato il posto esterno con le quattro viti la cornice e pronto presto utilizzato non devo scollegarlo e aprire il tutto ma semplicemente vado ad aprire il frontale anteriore dove troverò la presa USB quindi quando devo fare anche possibili eventuali altre modifiche non devo ogni volta staccare il posto esterno ma semplicemente trovare lo sport in lirio dove è presente la presa USB allora al di là di questo vado a realizzare due minuti e non preoccupatevi non facciamo un trattato su Sfera Design allora Sfera Design innanzitutto è il nome di questo software che in maniera molto semplice lo vediamo ci presenta questa schermata quindi è software dedicato ai posti esterni Sfera New o Sfera Robo i due differiscono per quanto riguarda l'aspetto diciamo estetico ma per quanto riguarda gli elementi elettronici gli elementi disponibili sono gli stessi allora molto velocemente vado a comporvi il posto esterno quindi ad esempio vado a prevedere un telecamera grande angolare con già un pulsante e poi magari aggiungo altri pulsanti ok quindi abbiamo un posto esterno con modulo audio video telecamera grande angolare e quattro pulsanti di chiamata potrei mettere qualsiasi cosa la tastiera il badge eccetera vado velocemente stabilisco la catola l'incasso aumento i due moduli due moduli questo è il mio posto esterno a che vado avanti e adesso passo alla configurazione quindi il primo blocco è la telecamera e mi dice con il pulsante 1 mi chiede quella configurazione quindi abbiamo detto che la P parte dallo 0 possiamo lasciare 0 potremmo chiamarlo P23 per carità lasciamolo 0 poi tollo di apertura serratura sappiate che quando voi premete il tasso serratura dal posto interno quando la serratura viene abilitata sul posto esterno si sente un tono un bip che a volte può dare fastidio ecco qui con il software possiamo abilitarlo o desabilitarlo ci si sente un posto e lo desabilitiamo serratura la temporizzazione sappiate ripeto lo vedremo nelle altre puntate non è un argomento di oggi però giusto per farvi capire la serratura che è collegata direttamente al posto esterno al SPS- per intenderci riceverà un impulso quando abilitata la serratura che dura 4 secondi di default ecco quel tempo lo potete aumentare o diminuire anche fisicamente quindi la T sul posto esterno lasciata vuota vuol dire tempo 4 secondi se invece fosse troppo se voi inseriste ad esempio il numero 1 nella serie T del posto esterno quel tempo diventa da 4 secondi a un secondo quindi c'è una tabella che varia dall'1 fino a 10 secondi fisicamente ovviamente anche sul software che è questo in maniera molto più semplice possiamo stabilire da 1 a 10 secondi questo è il posto esterno come configurazione questo modulo prevede anche un pulsante il primo pulsante in alto quindi questo pulsante mi dice mi chiede che funzioni deve avere chiamata ad un posto interno luci scale o se avessi un centrale di posto interno chiamerebbe quello semplicemente chiamata il posto interno mi dice ma tu da questo pulsante devi chiamare tutti i posti interni o lo chiami uno solo che vuoi quindi il generale corrisponde al famoso S9 fisico che abbiamo visto prima quindi qui se avessi un monofamiliare ma non è questo caso mi chiederebbe il pulsante del monofamiliare cosa deve fare quindi direi generale in questo caso no ma non è un monofamiliare quindi direi punto a punto e mi dice ok quel pulsante quale appartamento deve chiamare gli dico tu chiami l'appartamento numero 4 o quello che voglio secondo modulo sono i tre pulsanti quindi che qua mi chiederà su ogni singolo pulsante cosa deve fare chiamo il posto interno punto a punto gli dico tu chiami il numero 3 il secondo pulsante gli dico sempre chiamata al posto interno punto a punto mi chiami il numero 2 l'ultimo pulsante gli dico chiami un posto interno punto a punto chiami l'appartamento numero 1 quindi capite adesso l'ho fatto velocemente che qua io ho servato un ordine ma potrei dirgli qualsiasi cosa il pulsante in basso mi chiami l'appartamento 25 il secondo pulsante mi chiami l'appartamento 14 e il primo in alto mi attivi le luci scale ad esempio quindi è molto più flessibile vado avanti nella configurazione una cosa utile semplice ma ripeto comoda è la stampa delle etichette quindi io semplicemente qui dentro vado a scrivere il nome il cognome dei vari condomini ok tasto per tasto ok vado a fare questa cosa dopodiché quando farò la stampa qui stampo normalmente su una stampante qualsiasi avrò una stampa che prevede ovviamente la dimensione già tratteggiata per poter essere ritagliata che va bene per questo tipo di posto esterno con questo tipo di tasto se avesse ad esempio previsto un pulsante a doppia fila anziché una singola fila come questo mi stamperebbe l'etichetta adatta per il pulsante a doppia fila quindi questa è una comodità prima proprio operativa ma in sicuro luogo anche estetica spesse volte si vedono le poste esterni fatti bene insomma esteticamente ben fatti e poi tutto il lavoro è rovinato magari tutto il vostro lavoro è rovinato perché magari poi i singoli clienti i singoli condomini si mettono un uno se lo scrivi con il pennarello l'altro con la diamond l'altro con lo scotch e in effetti la bellezza estetica del posto esterno in questione viene rovinata poi sul lavoro finale che è banale ma quello che poi viene visto quindi la stampa dei cartellini sicuramente ci aiuta in questo senso allora adesso io torno in presentazione anche perché ho finito quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione adesso vado aprire la chat e vediamo se c'è qualche domani qualcuno risposto in corso perché l'ho intravista mentre parlavo ok ci dicono che il corso a quest'ora vanno bene siamo contenti l'S9 la domanda che ho risposto in corso quindi ripeto l'S9 vuol dire che inserisci il numero nome nella sedesse del posto esterno e in questo caso vai a convolgere nella chiamata tutti i posti interni che trovi senza preoccuparti di come li hai configurati ovviamente i debit configurati se no non funziona ad esempio per l'intercov però sei sicuro che la chiamata convolge tutti questi posti interni ecco una domanda che non avevo visto l'avere adesso su una pulsantiera due chiamate posso avere 5 monoletto su ogni chiamata certo allora il 5 allora su ogni appartamento monofamiliare potete realizzare al massimo potete prevedere in ogni appartamento a massimo 5 posti interni video parlo nel monofamiliare tipo l'esempio che abbiamo visto prima nell'impianto condominiale quindi la domanda con due chiamate senza nessun tipo di interfaccia potete prevedere al massimo in ogni appartamento 3 posti interni video quindi però perché ho risposto a rispondere alla domanda perché comunque se voi utilizzaste utilizzaste scusate utilizzaste la famosa cosiddetta interfaccia di appartamento che vedremo nelle prossime puntate quindi interfaccia di appartamento utilizzata negli impianti condominiali ed è non è obbligatorio ovviamente ma spesse volte consigliabile come ad esempio in questo caso l'interfaccia di appartamento la prevede su ogni appartamento vuol dire che ogni appartamento dopo l'interfaccia è visto come un monofamiliare perché l'interfaccia di appartamento prevede in ogni singolo appartamento del condominio un impianto totalmente indipendente quindi con un suo alimentatore con un suo eventuale nodo di video con un eventuale posto esterno di appartamento eccetera quindi quello anche se siamo in un condominio assimilabile a un monofamiliare quindi posso andare a inserire in un impianto condominiale in un appartamento come se fosse un monofamiliare fino al massimo 5 posti interni di appartamento quindi l'interfaccia di appartamento a volte ci risolve diversi problemi soprattutto di assorbimento perché in questo caso lo ripeto ogni appartamento avrà il proprio alimentatore se invece non avessi questa interfaccia capite bene che tutti i posti interni agio ma soprattutto video in termini di assorbimento graverebbero sul alimentatore che è quello appunto principale altra domanda che è arrivata adesso se volessi fare un impianto bifamiliare con più video per appartamento posso fare un intercom tra unità interna nel stesso appartamento e anche con il secondo appartamento certo che si allora e come si configura rispondiamo la prima poi la seconda l'intercom ripeto questo è l'oggetto di corso forse il secondo o terzo step di questo mese non mi ricordo comunque lo vedete nella newsletter o su Business Academy l'intercom lo posso realizzare tra posti interni dello stesso appartamento oppure tra posti interni di appartamenti diversi che se un bifamiliare di famigliare che se un condominio non cambia ok ovviamente questa cosa va configurata devo configurare i singoli posti interni quindi a seconda del tipo del modello di posti interno cambia leggermente la procedura ad esempio se noi partiamo dal posti interno più evoluto il classe 300 o il 300x ma il posti interno non cambia come funziona a di là della dell'app o meno la connesso meno il posti interno 300 a bordo possibilità di gestire la configurazione totalmente a bordo tramite il menu touch quindi non fisicamente ma il menu touch del posto interno stesso la voce intercom aggiunge intercom ti chiede appunto se intercom interno o intercom esterno quindi se tu scegli interno vuol dire che vuol realizzare un intercom tra lavanderia 08 del tuo appartamento se invece c'è l'esterno tra il tuo impianto e l'impianto del condominio dell'appartamento 27 quindi ti chiederà semplicemente inserire la N del condominio dell'appartamento o la N del posto interno del tuo appartamento questo è più facile se invece avessimo dei posti interni meno evoluti dove non hanno un menu così user friendly come si chiama quindi un semplice da utilizzare ma hanno soltanto una confezione fisica semplicemente devo andare a prevedere una lettera M che è una sede dei configuratori che trovate su tutti i posti interni esiste una tabella che trovate nella fuori istituzione oppure semplicemente con gli udiagram anche questo vi prevede dove ti dice che il posto interno che è dotato di quattro pulsanti totalmente configurabili ti dice che ad esempio la lettera M3 la butto lì i primi due pulsanti ti fanno un intercom nel tuo appartamento e gli dici quale e i secondi pulsanti 3 e 4 fanno un intercom su altri appartamenti quindi ci sono già delle impostazioni preimpostate che leggo su una tabella abbastanza lunga e scelgo quella che meglio mi risolve il problema quindi poi devo andare a cambiare il numero M nella sede del posto interno ovvero che è meno flessibile rispetto ad un posto interno che ha un menu come dicevo prima più semplice più variegato ma dipende poi ci sono alcuni posti interni quelli di base dove non hanno neanche questi quattro tasti configurabili quindi al massimo che posso fare di avere un intercom e fare il cosiddetto intercom su se stesso quindi al massimo posso chiamare tutti i posti interni nel mio appartamento che hanno lo stesso a N vi ripeto poi vi invito a seguire gli altri webinar dove andremo a approfondire meglio questa cosa ecco siamo in leggero ritardo ma ben volentieri vuol dire che le domande ce ne sono state quindi c'è stato un momento di approfondimento di dibattito io però direi che se non arrivano altre domande siamo collegati ancora in tanti rispetto all'ora prevista quindi in Dazio configurando l'ultima domanda che è arrivata in Streamings configurando i monitor interno su una chiamata con il configuratore 12345 non capisco la domanda sono sincero configurando i monitor interni su una chiamata con il configuratore 12345 si in effetti deve andare a ok con S9 inserito ok era riferito all'S9 scusa mi scusi esatto si è corretto quindi se lei configura i 5 monitor 12345 e nel post esterno inserisce il numero nome non è S gli chiama tutti e quanti tutti e cinque suonano contemporaneamente se c'è uno solo ovviamente questo è il classico esempio di impianto monofamiliare l'S9 ripeto usato nel monofamiliare non fate l'errore di prevederlo nel condominiale se non vi chiamereste anziché 5 monitor dello stesso appartamento chiamereste 5 appartamenti diversi contemporaneamente ripeto questo non è cosa buona e giusta quindi direi di chiudere grazie a tutti per la vostra attenzione e la vostra collaborazione in questo senso spero di rivedermi nelle prossime puntate che ovviamente conoscete se no avete dei dubbi sulle puntate successive riguardatevi la newsletter che vi è stata inviata tempo fa piuttosto che andate sul sito academy dove trovate appunto i corsi online oppure in sito academy in corso e un demand troverete a breve la registrazione di questo webinar ma anche di tutti gli precedenti che abbiamo avuto abbiamo fatto finora e sempre dal sito btc academy andando nella vostra area personale troverete la possibilità di scaricarvi in totale autonomia l'attestato di pacificazione già automaticamente compilato con la data il corso e l'orario quindi avete anche questa possibilità grazie a tutti e buona continuazione e buona giornata grazie a tutti